Marco Gaspari, seconda trasferta della stagione dopo la vittoria a Bergamo. C'è Pesaro, una neopromossa, una classifica da continuare a provare a muovere. Sì, c'è una partita importante che per noi appunto è quella di Pesaro. Una squadra neopromossa sì, fatta di giocatori che comunque hanno esperienza sia nazionale che internazionale perché non dimentichiamoci che il paleggiatore Cambi che lo scorso anno proprio qui a Modena vinse lo scudetto con Novara, le varie vanecche, Albrecht, Bocan e via dicendo. Quindi una squadra comunque composta da ragazzi interessanti. Detto questo noi dobbiamo pensare a fare il nostro, migliorarci giorno dopo giorno e soprattutto cercare di portare a casa una vittoria che per questo cammino è molto molto importante. Le indicazioni che sono arrivate con Buster Sizio di una squadra che ha saputo riprendersi anche dai momenti di difficoltà chiaro è che il tuo obiettivo è quello di arrivare a uno standard di base che possa garantire di lottare sempre ogni set. Beh, fuori discussione che siamo lontani da quello che può essere il nostro gioco ideale. Detto questo noi dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno e per farlo dobbiamo lavorare bene in palestra. Di sicuro questa squadra è stata costruita con determinate caratteristiche, soprattutto quelle dell'attacco e su questo dobbiamo essere immediatamente migliori rispetto a quello che è stata questa prima parte di campionato. Per il resto stiamo migliorando sotto la fase muro difesa, siamo migliorati. Non basta assolutamente, però quello che ci manca in questo momento è quello di dare una continuità, una solidità in più in attacco e speriamo appunto di partire da domenica a Pesaro. Ecco Pesaro, diciamo, una delle avversarie, una delle tante squadre arrivate in questo caso dalla Serie 2, però una delle tante squadre, come tutte le altre, da tenere particolarmente attenzione perché non ci sono squadre materasso. Ma non esistono, non esistono, vi ripeto, Vanèche, proprio con la società di Piacenza vince uno scudetto, Albrecht è un giocatore che tutti conosciamo, Cambi stessa, Bocca ha esperienza internazionale. In questo campionato non esistono squadre materasso e lo sta dimostrando il campionato, Legnano l'ha dimostrato nella prima giornata, Pesaro l'ha dimostrato nell'ultima. Ci sono tante squadre veramente competitive e in questo campionato appunto la differenza la farà sia a livello di gioco che è fondamentale, sia come la squadra si trova in determinati momenti della stagione. Quindi da parte nostra adesso noi dobbiamo pensare a lavorare. Noi sappiamo che fino alla fine di novembre siamo un cantiere aperto, dobbiamo mettere tanto fione in cascina, cercare di essere più pratici possibili. La bellezza del gioco in questo momento chiaramente non è prioritaria, anche se tutti noi vorremmo vedere una squadra che gioca bene a pallavolo dall'inizio alla fine. Però questo campionato sta dimostrando veramente tanta discontinuità di gioco da parte di tutti. Cosa vuol dire? Raramente vediamo set molto molto combattuti, ma ci sono spesso situazioni di set brevi. E questo vuol dire che dobbiamo lavorare bene sulla continuità, soprattutto se le cose non vanno. Questa è una cosa fondamentale. Abbiamo dimostrato nel primo set di recuperare un gap molto molto negativo. A Bergamo invece era successo il contrario. Di conseguenza tanta continuità di gioco, l'essere più pratici possibile e soprattutto portare a casa i tre punti.